Purtroppo il gattino che è morto nei giorni scorsi e che aveva cambiato un po' carattere, per questo la proprietaria se ne è accorta e aveva quindi anche morsicato la proprietaria, una figlia, il veterinario, è risultato essere positivo a una specie un po' particolare di rabbia, si chiama lissavirus ed è un virus che è stato individuato per la prima volta nel Caucaso nel 2002. È risultato positivo all'allissavirus il gatto morto dopo aver amorso la propria proprietaria residente nella comune di Arezzo. Si tratta del secondo caso a livello mondiale, scattano così inevitabilmente i provvedimenti. A fare la scoperta adesso il centro di referenza nazionale per la rabbia dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale delle Venezie che ha analizzato un campione del cervello del felino morto. Il primo cittadino di Arezzo ha così emesso due ordinanze urgenti al fine del contenimento dell'infezione. Una di carattere generale che prescrive che i cani, quando portati fuori, anche se provvisti di museruola, non devono essere lasciati liberi, quindi i cani vanno tenuti al guinzaglio sempre e comunque. Il secondo è che se un proprietario perde un cane, il cane si allontana, lo deve immediatamente segnalare all'autorità e anche se il cane cambia carattere, se diventa più aggressivo, deve essere segnalato. Quindi i proprietari devono un po' monitorare le loro bestiole. E la terza è quella che i cani randagi trovati e accalappiati non vengono restituiti ai proprietari perché sono posti in un periodo di quarantena di osservazione di sei mesi, a meno che i proprietari non si assumano il costo della vaccinazione antirabica e in quel caso rimangono in osservazione soltanto per due mesi. Questa è l'ordinanza principale. La seconda riguarda invece gli animali d'affezione della proprietaria del gattino morto che sono un cane, una gatta e tre gattini appena nati che ho fatto l'ordinanza per isolarli al canile municipale o strutture equivalenti. Attualmente non ci sono comunque evidenze di trasmissione da animale a uomo. A titolo precauzionale le persone entrate in contatto con il gatto risultato positivo, la proprietaria, tre sue familiari ed il veterinario, sono sotto osservazione e sono state prese in carico dall'ASLA. È stato infine costituito presso il Ministero della Salute, di concerto con la Regione Toscana, un gruppo tecnico-scientifico al quale partecipano esperti e istituzioni locali e nazionali.